Lo spirito di squadra e di coesione di un gruppo nell'ambito sportivo sono caratteristiche invidiabili da ogni azienda che cerca di progredire sul mercato. Valori fondamentali sui quali si fonda l'iniziativa Team a Canestro, ideata da VL e Huawei, brand dedicato alla formazione, e presentato oggi nella sede di MAV, socio del consorzio Pesaro Basket. Si tratta di un progetto dedicato al team building, pensato per le imprese che intendono migliorare il clima aziendale attraverso delle strategie di gioco che campeggiano nel mondo sportivo. Il progetto sarà guidato da un coach professionista che è abituato a gestire all'interno dell'azienda la formazione dei vari professionisti. Noi porteremo la nostra esperienza all'interno dei nostri luoghi dove la squadra cresce, dove la strada si forma, cresce e supera le proprie difficoltà. Ci saranno degli incontri guidati da questo professionista con i manager o altri dipendenti delle aziende che sono interessate, degli incontri che svilupperanno i concetti di formazione di un gruppo, di gestione dei vari ruoli, delle varie responsabilità all'interno del gruppo, superamento dei momenti critici all'interno del lavoro di squadra, come responsabilizzare al gioco collettivo ed evitare gli individualismi che non portano a un successo della squadra e soprattutto la gestione della leadership all'interno di questi gruppi, come riconoscerla, come farla accettare e come svilupparla durante una stagione. Si tratta di un progetto che debutterà nella stagione sportiva 23-24. Le realtà aziendali che aderiranno all'iniziativa prenderanno parte a due giornate formative nella pancia della Vitrifrigo Arena. Sani valori dal mondo sportivo a quello aziendale che verranno trasmessi negli spogliatoi dell'astronave, dagli stessi giocatori della Carpegna Prosciutto, dal presidente Costa e dal mental coach Riccardo Zuccaro. Il valore principale su cui vogliamo lavorare è il team working, cioè la capacità che ha una squadra sportiva come l'AVL di creare team in un periodo molto molto ristretto di tempo e quindi di far capire che la collaborazione, nel caso tra i giocatori, porta al risultato che è la vittoria della partita. Quindi la stessa cosa vogliamo trasferirla nel mondo delle aziende, perché le aziende adesso si trovano in un momento dove c'è un grande dinamismo, quindi persone si dimettono, persone vengono assunte e si ha la necessità di creare team in strettissimo tempo per essere competitivi e poter appunto riuscire ad essere vincenti sul mercato di riferimento. Avere la capacità di avere un team coeso che lavora insieme per il raggiungimento dell'obiettivo che è appunto quello di far sì che l'azienda sia competitiva è un valore enorme, quindi che va un po' a superare la logica dell'individualismo e invece a promuovere i valori appunto della collaborazione, dell'unità e del lavorare insieme per raggiungere lo stesso obiettivo. Mediamente, solamente MAV ha 2.500-2.600 clienti attivi al giorno, quindi proporremo a quelle aziende che sappiamo avere questo bisogno, questa soluzione, in modo che possano aderire e possano appunto partecipare con le loro persone. Tipicamente si parte appunto dalla parte alta, quindi del team, per poi dopo a cascata andare sotto in modo da trasmettere questi valori.